La Fondazione Guido d'Arezzo rinnova l'appuntamento con il polifonico, è importante, ancora più importante quest'anno perché è già importante il fatto che si possa realizzare, non nella sua versione classica di concorso come festival, ma già tutto questo è molto rilevante. Sì, come dicevo, ovviamente quest'anno abbiamo voluto rifare comunque il polifonico dopo purtroppo la necessaria cancellazione dell'anno scorso e l'abbiamo voluto rifare proprio per dare al mondo corale un segno e Arezzo è la città più vocata per dare un segno al mondo corale perché ormai noi siamo l'Olimpiade del canto corale da 70 anni, di riprese di resilienza. Per cui quest'anno abbiamo pensato appunto di trasformare il concorso in rassegna semplice festival, abbiamo invitato dei cori a venire per fare dei concerti e quest'anno abbiamo invitato anche dei gruppi professionali a venire a fare dei concerti. Attorno tutto questo alla figura di un musicista del quale ricorre il cinquecentenario della morte, si chiama Josquin Depré, è un fiammingo che ha lavorato molto in Italia in quegli anni e che costituisce una pietra migliare per il canto polifonico dal Cinquecento in poi. Per cui quest'anno insieme al polifonico e quindi ai canti e ai concerti ci sarà anche un convegno incentrato proprio sull'opera di questa figura di musicista. La volontà era quella di non fermare questa tradizione, ormai da 69 anni ad Arezzo si svolge un concorso o qualche iniziativa corale importante a fine agosto, non volevamo fermarla nonostante il momento complesso, già l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa ma il concorso fu annullato, il nazionale dell'anno scorso fu annullato e quest'anno abbiamo visto che i cori che si erano iscritti erano cori di altissimo livello ma erano pochi e allora abbiamo deciso comunque di organizzare concerti con questi cori, fargli attorno tante altre cose, masterclass, abbiamo invitato altri cori professionali, abbiamo creato due convegni di approfondimento sulla direzione di coro e sulla musica antica e abbiamo aperto anche un filone un po' allargando quello del canto popolare con concerti dedicati alle culture e alle lingue di tutto il mondo, alle melodie di tutto il mondo e quindi il canto popolare che concluderà il 28 all'anfiteatro con il grande concerto di canto popolare a cui gli aretini sono tanto abituati e affezionati il sabato 28 all'anfiteatro. Credo che sia importante per la città riscoprire il polifonico, riscoprire anche proprio il clima che si vive in città quando i cori arrivano, abbiamo cori che arrivano dalla Spagna, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dalla Grecia, dalla Croazia e poi abbiamo molti cori italiani con concerti straordinari sia alla Pieve che a San Michele in un programma che chi lo vuole vedere nel sito della Fondazione Vido Arezzo è riempito e pieno di eventi e di iniziative dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 23. Un nuovo appuntamento del polifonico che quest'anno da concorso diventa festival e un importante appuntamento che continua ad Arezzo. Sì, era importante farlo perché dopo l'annata nefasta del Covid l'anno scorso rischiavamo di perdere una tradizione che esiste dal 1952 e porta Arezzo in tutto il mondo. Polifonico vuol dire anche non solo coro, musica, ma vuole dire anche stare insieme, popoli che si incontrano attraverso l'arte e l'arte della musica di cui Arezzo indubbiamente è una capitale. Il Comune come socio fondatore della Fondazione Guido non poteva ovviamente non essere d'accordo e siamo fortemente convinti che sarà una Kermess di tutto riguardo. Sì, è vero non è un concorso, però è anche vero che facendo questa tipologia di festival riusciamo a mettere in campo, offrire ai cittadini e ai tanti turisti che in questi giorni sono nella nostra città un'offerta veramente globale perché riceveremo gruppi dalla Croazia piuttosto che dalla Spagna, piuttosto che dalla Grecia quindi ci sarà veramente quella Kermess internazionale che era il polifonico. Abbiamo tolto la parte del lagone, della competizione, del concorso proprio per un discorso di tempi anche di gestione della sicurezza nella pandemia, ma tutto si svolgerà nei nostri angoli della città uno più bello degli altri e sicuramente in sicurezza. Quindi invitiamo tutti a partecipare, a venire a sentire questa bellissima offerta e va indubbiamente ringraziato l'organizzazione del polifonico perché a dirlo è facile ma a organizzarlo crediamo veramente sia stata un'impresa. Quindi Arezzo sono sicuro che risponderà e con l'occasione portiamo tutti i saluti dell'amministrazione a farlo dal sindaco che è anche il presidente della fondazione, della dottoressa dell'aria pubblica che è la presidente della commissione cultura e di tutta l'amministrazione che ha puntato e punterà sempre sul polifonico. Quest'anno poi ripeto che è quello che ci divide dal settantesimo. Quindi è una manifestazione che si conferma, non ce n'era bisogno ma la conferma era importante in un momento in cui tante realtà invece non sono state potute messe in campo per la pandemia. Quindi è un piccolo ritorno alla normalità di cui questa città ha sempre più bisogno. Facete sapere come Emilia che abbiamo preso dei protocolli che prevedono tamponi...